Terza edizione di Viale Gramsci in festa ieri sera a San Giovanni è ormai consolidato del resto l'evento che Confesercenti e Amministrazione Comunale curano insieme per la visibilità delle attività commerciali della principale arteria nel nord della città. Una festa collaudata che stasera vede davvero un afflusso di pubblico come nella migliore delle tradizioni, questa appunto è la terza edizione e come ho avuto già un modo di ricordare l'amministrazione comunale deve ringraziare la Confesercenti e anche tutti gli operatori commerciali qui del Viale Gramsci che anche quest'anno hanno voluto ripetere l'iniziativa che è un momento importante sia di promozione per le attività commerciali del quartiere e anche di aggregazione sociale non solo per la cittadinanza che risiede nel quartiere ma per la cittadinanza di tutta la nostra San Giovanni che stasera può comunque godere di una bella serata, una serata estiva di passeggiata con tante iniziative per i grandi e per i piccoli. Serate che valorizzano dei quartieri di San Giovanni che solitamente sono meno valorizzati perché restano fuori dal perimetro del centro commerciale naturale. Quindi serate che sicuramente non risolvono il momento storico del commercio ma che indubbiamente danno un po' di ossigeno, un po' di entusiasmo, quel pizzico diciamo di ottimismo e quindi danno modo di rivitalizzare appunto in questo caso il Viale Gramsci. Movida fino alle 24 ed oltre dunque con il meteo che è a retto scongiurando la presenza di Giove Pluvio le presenze sono state costanti rispetto alle precedenti edizioni.